Sarà ufficiale dal 22 febbraio il passaggio di 117 filiali nelle Marche alla Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, cedute da Intesa San Paolo, neoproprietaria di UbiBanca, che a sua volta aveva acquisito la nuova banca Marche, ovvero la parte GUD del tracollo dello storico istituto di credito marchigiano. Un domino finanziario, ma con la garanzia, dice Giovanni Gianuario, segretario generale della First Cisle delle Marche, del mantenimento dei livelli occupazionali, ovvero qualche migliaia di dipendenti nelle Marche. Oggi l'incontro in regione con i vertici della Banca Emiliano-Romagnola. Noi auspichiamo e vigileremo affinché, pur nell'autonomia dell'azienda Biper, vi possa essere il massimo rispetto dei livelli occupazionali. Non è questo certo il momento di avere impatti negativi da questo punto di vista. La nostra sarà una moral suation di capire quali saranno le strategie sul fronte del credito, perché le nostre aziende sono molto indebitate prevalentemente, insomma la crisi ha colpito duro. C'è una grande richiesta di debito e di credito a lungo termine che possa dare fiato alle nostre aziende in attesa che i fatturati possano crescere come ci aspettiamo. L'ennesima rivoluzione bancaria è fonte di preoccupazione soprattutto nelle aree colpite dal sisma del 2016. Negli istituti bancari sono aperti filoni finanziari per le pratiche di ricostruzione post-sisma. Se da un lato la Biper fa sapere di aver aderito alla convenzione tra associazione bancaria italiana e cassa depositi e prestiti per le pratiche che verranno attivate da fine febbraio, sarà necessario vigilare su quelle che verranno traghettate proprio nel passaggio. Sembra un dettaglio, non è così, soprattutto nei borghi e nei comuni dell'entroterra dove insomma spostarsi anche di pochi chilometri può diventare un problema. Ecco ci aspettiamo risposti, ma siamo convinti che verrà soddisfatta questa condizione che in una regione dove si conta il 62% dei comuni colpiti dal sisma non è secondaria.